Correva l'anno 1893 quando a Milano Carlo Borghi fondava Olimpia, un marchio destinato a diventare a imprimersi nel DNA del ciclismo. Dopo i fasti sportivi degli anni 60 il marchio fu rilevato dalla famiglia Fontana. La produzione fu trasferita proprio qui a Piove di Sacco nel Padovano. Oggi il marchio Olimpia è uno tra i più apprezzati che porta il Made in Italy un po' in tutto il mondo. Per festeggiare i suoi 130 anni Cicli Olimpia lancia nel mercato Carbo 130esimo anniversario. A illustrarci questa nuova e-bike Alberto Pizzo, product manager di Cicli Olimpia. A te la parola Alberto. Grazie Carlo, è sempre un piacere essere qui in vostra compagnia. Cicli Olimpia è un marchio storico come hai citato tu, 130 anni di storia. È un marchio che da quando è stato acquisito dalla famiglia Fontana e portato a Padova ha sempre creduto molto, investito molto non solo nelle bici da strada ma soprattutto nella parte mountain bike. Tra i primissimi a fare dei modelli specifici per l'utilizzo nelle Gran Fondo e l'utilizzo nel cross country piuttosto che nelle bie ammortizzate e tra i primi anche ad aver avuto dei atleti storici come possiamo ricordare Kikuz, come possiamo De Bertolis, Marzio Deo che è ancora la nostra bandiera. E oggi nei tempi moderni diciamo moderni, non che Marzio non sia moderno, ha vinto i campionati del mondo amatoriali anche l'anno scorso, ma abbiamo Claudia Peretti, campionessa italiana Marathon e un team importante come quello della collaborazione che abbiamo stretto negli ultimi anni con i carabinieri, quindi Carabinieri, Olimpia, Vittoria, un team che lavora nel cross country, un team importante che ci consente di andare nei campi gara di tutto il mondo, dall'America all'Europa e con degli ottimi risultati sia nella parte cross country e anche nella parte ciclocross perché ricordiamo che con Daniele Braidot, Filippo Fontana e Emanuele Uez abbiamo vinto campionati italiani sia nel cross country che nella parte cross e ci consente di fare uno sviluppo importante in tutto quello che riguarda la mountain bike e in tutto quello che possono essere dei prodotti specifici per chi è appassionato di questo sport, non solo da un punto di vista più tradizionale che quindi ha voglia di spingere solo ed esclusivamente con le proprie gambe, ma anche fare ricerche e sviluppo su quello che riguardano il mondo i bike. Olimpia infatti ha investito molto fin dall'inizio anche nel mondo i bike, mountain bike, via ammortizzate e front, non solo con dei modelli specifici, quindi con dei prodotti sempre che ricaicano e che partono da un foglio bianco, diciamo quindi con motori e scelte anche di batterie molto molto originali. Noi crediamo che la bici vada intesa come un oggetto unico e vanno messe insieme non solo i componenti, ma tutto ciò che riguarda la parte geometrica, la parte di sospensione, le cinematiche, della bicicletta e quindi siamo partiti sempre anche con lo sviluppo di batterie nostre. Ne è un esempio la Power Nine da 900 wattora, uno dei fiori all'occhiello della nostra gamma che ha consentito comunque di avere delle autonomie straordinarie, soprattutto per quello che è il mercato odierno, ma considerato che è una batteria che ormai credo siamo intorno ai tre anni, forse quattro di storia. Olimpia è una batteria che monta delle celle 21700, quindi comunque di altissimo livello e Olimpia ha sempre fatto questo tipo di scelta, cioè abbiamo sempre cercato di innovare, non solo da un punto di vista geometrico, ma anche da un punto di vista sostanziale, le nostre bike e e-bike. Oggi qui sono a presentarvi Carbo 130esimo anniversario, un anniversario come abbiamo detto prima molto importante perché comunque siamo tra i pochi, anzi forse assieme a Bianchi, l'unico marchio che può insegnarsi di così tanta storia in Italia e penso anche nel mondo, quindi abbiamo voluto celebrare questo anniversario importante con una bici che ci ha dato grosse soddisfazioni perché comunque Carbo è un modello che era già in gamma la precedente stagione e che è stato veramente molto apprezzato nel mercato con una versione diciamo rivista e che a mio modo di vedere è veramente una bici completa. Siamo andati ad arricchire questo modello con un carro completamente in carbonio che appunto consente una maggiore elasticità e un maggior comfort a livello di guida e abbiamo arricchito ulteriormente con un manubrio sempre su nostro design e con nostre specifiche anche esso monoscop in carbonio. Sicuramente per chi utilizza le mountain bike lo saprà e chi è un po' meno friendly rispetto a questa cosa glielo andiamo a raccontare ma sicuramente un carro in carbonio, un manubrio in carbonio determina una guida molto più precisa molto più confortevole. Il prodotto in carbonio è uno step chiaramente superiore rispetto all'alluminio un po' più delicato ma consente di avere veramente una reattività della bicicletta non solo a livello di performance ma anche proprio nel comfort della guida molto importante. Un altro punto fondamentale diciamo di questa nuova versione di Carbo è sicuramente l'aggiornamento all'ultima versione di sistema del motore Oli Edge che è un motore comunque da 90 Nm molto performante che abbiamo sviluppato con delle mappature specifiche assieme ad Oli fin dall'inizio. È una bici che secondo noi ha un modo di rispondere è un motore che ha modo di rispondere molto puntuale sulla pedalata e che consente appunto di avere un feeling quasi come se fosse un'estensione della propria pedalata molto preciso molto confortevole nell'utilizzo e preciso. Abbiamo andato a sviluppare appunto una mappatura che secondo noi è ottimale ma quest'ultima versione dell'aggiornamento consente anche di poter andare a sfruttare delle ulteriori mappature si parla della versione Eco, della versione Comfort e della versione Power dove l'utente o comunque l'appassionato può andare a ulteriormente configurare ed avere delle risposte differenti della bici. Vedete la versione Original che sostanzialmente è quella di casa madre e non è modificabile dall'appassionato. Si può passare alla versione Eco che consente un risparmio di consumi sostanzialmente va ad inficciare meno sull'utilizzo della batteria. Una versione Comfort che è una versione diciamo un po' più rilassata rispetto alla configurazione originale e una versione Power che consente la massima prestazione. Queste tre mappature sono ulteriormente configurabili da parte dell'utilizzatore. Nella fattispecie tenendo premuto il pulsante si entra nei vari livelli e si può andare a creare delle ulteriori configurazioni. Particolare interessante è stato inserito l'override, l'overrun all'interno delle mappature Power. L'override per chi non lo sapesse è sostanzialmente un aiuto del motore anche quando tu smetti di pedalare. Serve oltrepassare probabilmente dei punti tecnici, che ne so, dei sassi, dei punti molto sconnessi dove non si riesce a chiudere il giro di pedale. Quindi diciamo che si sospende la pedalata ma appunto avendo il motore queste biciclette ti consentono di andare oltre e il motore continua ad erogare energia. A non tutti piace, anche questo è regolabile, le funzioni del display, quindi diciamo massima libertà per poter andare anche a configurarsi tutta l'attività della bicicletta stessa. Una volta che vengono modificati i parametri si torna al menu principale e come vedete in display appare questo pallino che va ad inserire, questo asterisco, che va a determinare il fatto che è stato sostanzialmente modificato il parametro. Se avete fatto le modifiche che non volete niente paura, si può resettare e riportare a livello di originalità dei preset. Carbo è una bicicletta e-bike con un'escursione anteriore e posteriore da 160 mm. La forcella è una forcella, anche questa, importante, prodotta in Italia, è un Extreme Era B2S da 36 mm. Con una testa rinforzata è una delle poche forcelle che presenta una testa inserita con un rinforzo che la rende ancora più rigida e ancora più precisa nella guida. Ecco, un ultimo dettaglio che se vogliamo andare a vedere su questa bicicletta, rispetto alla versione di serie, che viene proposta con delle gomme a garro da 2.6 che sono, diciamo, un po' più leggere. Nel complesso questa bicicletta va a risparmiare, rispetto alla versione originale, oltre i due chili di peso, tra gomme, carro, manubrio e una serie di dettagli che siamo andati a variare sostanzialmente. Quindi non è solamente una bici più confortevole, ma diventa una bici anche un po' più leggera e un po' più maneggevole sotto alcuni punti di vista, sebbene anche la versione originale fosse una versione importante. Cos'altro dire? La colorazione è sicuramente una colorazione esclusiva che abbiamo proposto in questa versione e non potevamo sottrarci dal fare questa serie numerata in 130 esemplari. Quindi abbiamo inserito una targhetta che va a denominare ogni singolo esemplare di queste biciclette e saranno solamente 130 quelle disponibili in tutto, diciamo, il mercato, quindi sia italiano che estero. Questo è un... ci trovavamo... lo abbiamo sempre fatto, nel senso che solitamente quando ci sono anniversari importanti, anche al 120esimo, abbiamo fatto dei modelli commemorativi, ci piace farli numerati, ci piace, come dire, andare a creare qualcosa magari di un po' più esclusivo per gli appassionati del nostro marchio e delle nostre biciclette. Carbo 130esimo anniversario è disponibile e prenotabile presso tutti i nostri concessionari e punti vendita. È disponibile in tre taglie, SM, ML ed LXL. Come sapete noi facciamo sempre molta attenzione sia nella disposizione delle geometrie, delle taglie e delle cinematiche della bicicletta, infatti anche in questa versione con carro in carbonio il carro si allunga nelle taglie LXL per poter bilanciare meglio il peso dell'atleta o dell'appassionato che la utilizza e creare sempre il miglior feeling tra ciclista e bicicletta stessa. Ringrazio MTB Granfondo di essere venuta qui ed avermi dato l'opportunità di descrivere questa bici dell'anniversario e ringrazio MTB Granfondo anche per i servizi che fa tutti gli anni e da un sacco di tempo sulle gare delle ruote grasse, mountain bike e anche nel ciclocross. E a tutti voi! Alberto, grazie mille a te, grazie a Ciclio Olimpia e tantissimi auguri per i suoi primi 130 anni di vita. Da Piove di Sacco è tutto, un saluto da Carlo Rosa, vi auguro buone feste a tutti voi e ci vediamo sui campi di gara. Grazie mille a tutti! Grazie a tutti.